Ciao, buon pomeriggio a tutti. Direi che siamo in un evento, quindi non è un argomento così lontano da oggi. Devo ammettere che io non amo molto organizzare gli eventi, perché trovo che sono una cosa estremamente complicata, richiedono un grandissimo lavoro. Vediamo sempre una parte molto piccola di quello che in realtà succede nella preparazione di un evento. L'evento si svolge prima e anche poi dopo nei postumi. Forse comincerei con un applauso all'ESC, perché comunque... Ecco, in realtà la cosa che a me piace moltissimo degli eventi sono essenzialmente due aspetti. La prima questione è che gli eventi sono un luogo che permette di sperimentare. Si possono immaginare degli scenari, si possono cambiare prospettive, si può all'interno di una specie di microcosmo creare delle dinamiche che sono un po' uniche, un po' straordinarie, un po' hack the system. C'è questa idea di comunque trovare dei modi per sabotare le situazioni. Ed è una cosa che gli eventi possono effettivamente permetterci di fare. L'altra cosa che gli eventi ci permettono di fare è creare artificialmente uno stato di emergenza. nel senso che, allora, non so se la mia esperienza di collaborazione, io vengo soprattutto dai progetti Wikimedia, è che tendenzialmente ci sono grandi discussioni e la collaborazione è lavorare da soli e ogni tanto avere un bot che ti scrive e ti manda un messaggio. Somiglia molto alla collaborazione che c'è per esempio nella gestione dei boschi comunali, che è una delle più antiche sistemi di commons, in cui hai sostanzialmente la gente che passa il tempo a fare lotte di confini, come riportano tutti i documenti più antichi, ma poi quando c'è un incendio interviene. Ed è in effetti una situazione di emergenza, una situazione straordinaria che permette alle persone comunque di collaborare anche in modo straordinario. Ed è una risposta. E gli eventi ovviamente, per fortuna, non sono una cosa drammatica, ma se un evento è superiore ad una dimensione, diciamo, regolare, fa qualcosa di straordinario, fa sì che la gente accorre per dare una mano. Cioè si crea comunque una dinamica di collaborazione che io trovo particolarmente interessante. Ora è stato un po' questo l'idea di questa Wikimania esinolario e la racconto per portare anche un po' una testimonianza di una cosa che è successa, cioè reale, senza parlare di cose troppo vaghe. Ma effettivamente è questo raduno mondiale di Wikipedia, di cui sono stata l'ideatrice, poi ho diretto il progetto come volontario per tantissimi anni, perché poi è stata molto complicata l'organizzazione, che si è svolta nel paesino di Esinolario, un paese di 700 abitanti. Noi diciamo a 12 chilometri di curve dal lago di Como, perché è estremamente isolato. E sono arrivate oltre 1370 persone che hanno partecipato all'evento e la cosa che amo molto di questa idea, di questa iniziativa, è stato proprio questo coinvolgimento attivo di tutti, perché era complicato, perché era oltre la misura del paese. Io sono lì, ho partecipato appunto all'evento. Una delle idee anche che era un po' il pilastro di questo evento era che non volevamo una differenza tra i volontari di Wikipedia che arrivavano e che partecipavano all'evento e i tantissimi volontari che hanno dato una mano nell'organizzare l'evento. E poi volevamo che Roberto Maroni fosse dietro per la fotografia, in modo tale che non fosse in prima fila, perché era venuto ad aprirlo come presidente della regione Lombardia. Quindi anche tutte le autorità abbiamo fatto in modo che fossero nascoste, perché non volevamo che fossero loro le persone che firmavano un po' questo evento. E poi negli anni, in realtà sono un africanista, mi sono specializzata nell'organizzare eventi anche in Africa. La mia specializzazione di studi è su studiare l'impatto degli eventi anche sulla sicurezza urbana, sul funzionamento dell'arte. Dal 98 seguo la Biennale di Dakar e ormai sono sette anni che sono anche la presidente della Commissione Internazionale di Wikimania, quindi questa commissione che seleziona le nuove sedi per Wikimania, quindi il raduno mondiale di Wikipedia. E l'idea di fare un evento a Esinolario è stata una grandissima lotta, perché chiaramente normalmente l'evento veniva organizzato in grandi hotel, università, grandi città. Noi diciamo sempre che Esino era tra lo Sheraton di Montreal e l'Inton di Città del Messico, perché in quel caso erano stati organizzati in grandi alberghi. Però l'evento è stato ospitato per esempio al Bergman Center di Harvard, all'Università di Harvard, a Washington DC, a Città del Capo, insomma normalmente è un evento che si svolge in grandi città. Nel nostro caso abbiamo fatto una cosa in un piccolo paese di montagna. Ed era proprio con l'obiettivo di creare delle dinamiche nuove, di fare in modo che appunto ci fosse una partecipazione vastissima di tutte le persone anche attivate nella produzione di contenuti e fare in modo che questo evento fosse anche trasformativo del luogo, quindi utilizzando tutte le risorse esistenti del piccolo paese. Per organizzare l'evento infatti abbiamo usato principalmente le infrastrutture e abbiamo cercato di usare le risorse e la presenza di questo evento per produrre qualcosa di nuovo, dalla trasformazione della palestra con uscite di emergenza all'accessibilità per la scuola elementare, al trasferimento del museo creando una nuova sede per le associazioni, al ripristino di un altro edificio. Quindi Wikimania è stata l'occasione per raccogliere fondi, raccogliere risorse che non sono state finanziate da Wikimedia Foundation ma anche da tutti gli enti locali che erano talmente stupiti che arrivasse questo evento che addirittura anche la strada che non veniva rinnovata da 40 anni è stata sistemata grazie appunto a questo evento ed è diventata anche una strada statale, non più una strada provinciale, anche questo molto importante poi per il territorio. La fibra ottica già arrivava, è stata distribuita, è stato fatto tutto un piano di logistica per gli alloggi, 738 letti erano esino in cui non c'era una famiglia che non è stata coinvolta nell'evento, tra l'altro anche forse è la cosa che ha il motivo per il quale tutti ricordano questo evento che è stato anche proprio la presenza di tutte le persone, il coinvolgimento. Abbiamo dovuto fare dei piani di mobilità con la gestione dei flussi e con ovviamente l'aumento dei trasporti, i carichi elettrici sono stati aumentati per arrivare comunque a tre device per ogni persona e quello che non è alpino è il fondatore di Wikipedia, in effetti non so se si riesce, quindi abbiamo dovuto creare un'unità di crisi e uno stato di emergenza, c'era la Digos in ogni sala perché l'evento è stato organizzato appena dopo Expo e c'era un'allerta a terrorismo molto alta. Infine c'era il trenino, ora questo per dare giusto una panoramica un po' di questo evento e per dire questi eventi che superano le dimensioni possono essere molto interessanti, sia per delle dinamiche territoriali, perché si può sperimentare e fare delle cose nuove, ma anche perché in realtà si può lavorare sui contenuti, cioè si può lavorare su anche delle percezioni. A me piaceva molto questa idea di sabotare il concetto di centro e periferia e far vedere che un piccolo luogo non necessariamente produce piccole cose, una conoscenza locale, ma partecipa ad una conoscenza, ad una competenza internazionale e universale. Quindi questa idea di creare comunque un collegamento tra la visione di Wikipedia in cui chiunque può contribuire, ma anche chiunque in qualsiasi luogo può contribuire, quindi arrivare a dire allarghiamo questi confini. E ovviamente poi abbiamo usato tutti gli strumenti, è stato riconosciuto, poi c'è un archivio a Esinolario, le mappature sono state fatte su OSM, insomma è stata anche un'occasione per coinvolgere anche tutti i comuni della provincia, tutte le scuole, l'università di Lecco, in modo tale che acquisissero competenze e partecipassero anche a questa idea che si può migliorare i contenuti, che si può essere protagonisti di questo sapere noto e di questa comunità internazionale, diventando parte di questa comunità internazionale. Quindi a me piace molto questo concetto del tasto modifica che c'è anche in fondo nello spazio fisico. Io ho sempre sognato di andare in posta, vedi le cose che non funzionano e dicono, se ci fosse un tasto modifica potrei intervenire e finalmente fixare questa situazione. E forse questo modello e questa idea di progetti collaborativi che sono aperti, che permettono a chiunque di intervenire, forse può effettivamente essere portata e io credo che gli eventi possano essere uno spazio. Inoltre un'altra cosa interessante è proprio questo ecosistema. Io conosco bene il sistema di Wikimedia, dei progetti, ma in realtà questo ecosistema si estende e si estende molto di più. Ed è proprio su questo tema che arrivo. Quindi questa idea di un movimento open. In realtà quello che si vede, e c'è un bello studio di Open Future, che è una fondazione, sul fatto che il problema è che non esiste un vero movimento open. Esistono ovviamente tantissime comunità, esiste uno spirito, una condivisione, divisioni, a volte tra l'altro non del tutto sinergiche. Non so, l'ambito del Open Educational Resources, cioè tutte le persone che operano nell'ambito del materiale educativo spesso usano delle licenze che sono NC, ND, quindi non commercial e non derivative, che rendono non interoperabile il contenuto con altri progetti. Oppure c'è per esempio il mondo di Wikimedia che in realtà per quanto l'infrastruttura sia interamente con software libero, tutte le associazioni, gli enti non usano software libero, tranne Wikimedia Italia per presidenze e per impegno di membri del direttivo molto attivi anche in questi ambiti. Quindi spessissimo c'è una mancanza di interoperabilità, ci sono dei progetti ormai molto ampi dall'Open Government Data, la questione dell'Open Science che ha portato all'apertura dei contenuti delle infrastrutture nel mondo della ricerca, ma che in realtà dialoga poco con le altre istituzioni. Insomma, tutto questo per dire esiste un movimento, esiste la possibilità di rinforzare questo movimento, ma soprattutto siamo in un periodo in cui questo movimento è grande, cioè ha un suo potere, un suo ruolo, una sua centralità anche in delle scelte politiche. E forse il fatto di metterci insieme e lavorare su un evento per comunicarlo in modo più efficace e per far vedere anche questa potenza di fuoco che c'è, con anche tutte le intersezioni, con il coinvolgimento di Creative Commons, tutto quello che è Open Innovation, cioè con tutti gli ambiti che fanno parte del movimento. L'idea di fare un evento, adesso ne abbiamo un po' discusso all'ultima Wikimania, già ne ho parlato con un po' la comunità di Wikimedia, dicono ma potrebbe essere interessante, Creative Commons, anche due membri del direttivo. Certo, il 2029 anche per dire, prendiamoci il tempo per farlo, perché per convincere comunque il movimento non è che sarà una cosa da due minuti. Quindi sicuramente è un processo. Tra l'altro il processo può essere anche un momento per creare dei cambiamenti all'interno del funzionamento delle varie istituzioni e potenziare anche una sinergia e una maggiore collaborazione tra gli enti. Quindi non soltanto finalizzato l'evento, ma anche potenziando tutto quello che è anche il contorno e anche il senso e la forza delle istituzioni che sono coinvolte e dei gruppi che già sono coinvolti. Al momento, lo trovate su MetaViki, ho iniziato a fare uno studio di fattibilità, quindi trovate un elenco degli potenziali stakeholder, degli eventi in corso, una definizione di possibili obiettivi, per iniziare a fare una mappatura di tutti quelli che sono gli eventi al momento che esistono e che potrebbero in qualche modo convergere. E appunto, come menzionavo, la cosa interessante sarebbe utilizzare questo tempo per lavorare sulla formazione, le interazioni, cioè sul creare comunque temi che possono connettere le diverse realtà. e la proposta di Bruxelles è ovviamente legata al FOSDEM. Gli eventi Wikimedia sono dal 2005 degli eventi piuttosto piccoli, sono degli eventi che normalmente raggiungono mille, mille cinquecento presenze, tra l'altro Esinolario è stato uno dei più grandi dopo Londra con il Barbican Center, che aveva raggiunto quasi duemila persone, però parliamo di eventi piuttosto piccoli. Lo stesso per le comunità di State of the Map, quindi dei mappatori, la comunità di Creative Commons, gli incontri. Il vero evento che è il più grande di tutto il movimento è il FOSDEM, che raggiunge, adesso due anni fa erano undecimila persone che avevano citato nel discorso finale, però sono numeri che sono completamente diversi rispetto ad altre parti del movimento open. E quindi, tra l'altro, anche lì usano l'Università Livre de Bruxelles, soltanto alcuni degli ambienti, quindi potenzialmente si potrebbe capire se è possibile espanderlo. Il motivo per il quale la proposta è quella di dire FOSDEM è perché è molto difficile scalare da mille persone a diecimila. Un'altra cosa è partire da un'infrastruttura esistente e potenziarla aggiungendo magari duemila persone, quindi cambia abbastanza il significato. Si tratterebbe poi in realtà non di modificare l'evento, ma soprattutto di lavorare su una strategia di comunicazione congiunta, quindi avere comunque tutta una parte di comunicazione, di brand, di comunicazione dell'evento che sia, che vada in una direzione unica. E tenendo conto di tutte le comunità che fanno parte dell'evento, quindi mantenendo il programma di ciascuno separato, creando, potenziando le borse di studio e i visti, che sono dei limiti attuali di FOSDEM, perché ha una presenza legata alla gratuità dell'evento, non è necessaria una registrazione, ma non ha un grande supporto per tutte quelle che sono delle presenze che vengono dal resto del mondo o un'attenzione all'inclusione e alla diversità. E creare praticamente un track unico per l'evento, un solo track che sia congiunto e mantenere comunque i programmi separati, potenziando magari quelle che al FOSDEM sono chiamate le dev room, quindi degli spazi che sono dedicati, che già esistono per quello che è l'ambito dell'advocacy, delle licenze, i temi dell'open science e della ricerca, quindi già il FOSDEM contempla un'attenzione verso tanti temi diversi, hardware e anche alla presenza di aziende. Infine la cosa straordinaria del FOSDEM è il fatto che ha un'infrastruttura aperta già in essere che è la migliore esistente e infine forse una delle necessità e uno dei rischi di un evento del genere è chiaramente avere un numero di presenze molto ampie e una grande frammentazione anche della partecipazione, quindi richiederebbe comunque un coinvolgimento molto forte dei volontari. Ecco, trovate online su MetaViki una proposta di progetto con un po' di materiale. Questa proposta nasce per la comunità di Wikimedia perché al momento io sto cercando di convincere loro e diciamo che ci sono un interesse. Ho iniziato a scrivere al FOSDEM per sondare il terreno, non ho ancora risposte, quindi è ancora una cosa lanciata un po' per vedere se può essere fattibile. Io credo che una cosa interessante è anche che questa sinergia potrebbe portare nuove risorse e anche degli elementi che possono essere utili, però l'idea di questa mia presentazione era quello di parlarvene, sentire cosa ne pensate e anche sentire se vi sembra sensato oppure anche le vostre proposte, i vostri suggerimenti. Il bello del 2029 è che è così lontano che uno dice vabbè ma sì dai, tanto poi chissà dove sono nel 2029. Ecco, grazie. Bene, innanzitutto è impressionante ciò che avete fatto e che hai fatto e volevo domandarti una cosa che hai parlato, l'importanza delle competenze e del training e potresti spiegare di più, qual è il valore che queste cose possono dare anche al mondo open source o promuoverlo ecco, le competenze? Ma allora è chiaro che qua un po' il matrix di che cosa può fare Wikimedia per gli altri, che cosa può fare Creative Commons, cioè secondo me è interessante un po' questo. È chiaro che già soltanto un miglioramento dei contenuti di tutto il movimento open sui progetti Wikimedia sembra una banalità ma in realtà ha un impatto enorme. Io ho fatto una certificazione per Creative Commons che citava regolarmente Wikipedia come fonte ma gli articoli spesso non erano abbastanza buoni, cioè anche solo migliorare i contenuti per tutto il movimento già sarebbe un passaggio interessante e una sinergia che può essere fatta sui progetti Wikimedia. Per quanto riguarda il software è abbastanza evidente, soprattutto la mancanza di suite open per il movimento Wikimedia. Bots tra l'altro ha creato questo user group per il software libero all'interno di Wikimedia, ma è un po' paradossale che vengano fatti sondaggi usando Google Form o che venga anche utilizzati un sacco di strumenti non aperti e tra l'altro alcuni strumenti potrebbero essere facilmente sostituiti da media Wikimedia, quindi anche con un po' un paradosso. La questione anche delle licenze, secondo me è anche l'interessante, spesso capita che chi si occupa di software sa tutto di licenze sul software ma magari mancano tutte le parti di licenza sui contenuti che vengono prodotti, che invece potrebbe essere una sensibilità utile e importante anche da diffondere un po' di più. Lo stesso Open Education Resources, prima lo citavo, ci sono dei grossi problemi di interoperabilità, quindi cominciare ad avviare comunque un'attenzione verso questi temi perché la sinergia poi con i progetti Wikimedia, avendo gli articoli di Wikipedia, 25 miliardi di visualizzazioni al mese fa sì che hai comunque una potenza di fuoco per diffondere dei contenuti. Quindi io vedo, e poi la potenza multilinguistica dei progetti Wikimedia, questo è un altro asset che può essere molto utile perché con oltre 300 versioni linguistiche rappresenta la comunità multilingua più grande che esiste su internet. Per cui vedo, diciamo, questi sono dei pezzetti. L'altra cosa è l'hardware anche, non sono tantissimi. Alcuni ambiti del mondo hardware organizzano eventi, come qui è un esempio, in cui software e hardware dialogano insieme, ma non è una cosa molto comune. Spesso l'hardware segue un destino abbastanza separato dal mondo open e anche promosso magari da designer che non hanno necessariamente una sensibilità per quello. Quindi queste componenti le vedo come un terreno interessante anche per non soltanto focalizzare tutta l'attenzione sull'evento, ma focalizzare l'attenzione su anche quello che può condurre a usare l'evento come un volano per dei cambiamenti e delle interazioni. Poi c'è anche tutto il tema della comunità. È chiaro che se riesci comunque a rendere un po' più poroso il sistema, avere comunque membri delle comunità che possono diventare contributori o essere affascinati o contributori tecnici da una parte oppure contributori su altri progetti, può essere interessante anche questa sinergia, anche per consolidare un po' di più il movimento e anche allargarlo. Grazie. Altra domanda, al volo. Sì, volevo chiedere. È molto interessante la parte in cui ha spiegato una bozza di piano dell'incontro nel 2029 a Bruxelles. Però lei ha fatto leva sul fatto di creare un unico track comune a tutte queste comunità che in realtà anche prendo ad esempio Open Science sono molto diverse da come qui immagino ce ne siano tanti che siano avvocati dell'open source software. Come pensa anche un esempio molto semplificato di unire questi interessi molto diversi alla fine tra di loro perché un ricercatore magari non ha tanto interesse ad avere un hardware aperto per aggiustare i trattori o aggiustare le macchine che noi usiamo oppure così come un programmatore potrebbe non avere interesse ad avere articoli di ricerca disponibili a tutti. Ecco. Io penso che comunque la mia proposta è per fare una prova, cioè dire proviamo a farlo nel 2029. Tra l'altro potrebbe essere una cosa che non funziona per niente, invece magari funziona e uno dice beh allora lo rifacciamo tra tre anni, tra cinque anni, cioè lo teniamo lì come una possibile cosa da replicare. Però l'idea è quella di sperimentare perché è un po' quello, cioè provare una volta a vedere che cosa succede. Concordo che ci possono essere delle difficoltà ma in realtà secondo me il vero problema è quello che siamo delle tribù, cioè ognuno di noi tende a stare con la sua tribù, il suo gruppo. e ci sono dei punti di contatto che esistono. In realtà appunto citavi l'open science ma FOSD ma già un track sull'open science proprio dedicato al software perché poi il governo francese è particolarmente finanziatore di software libero nel campo sia dell'educazione che dell'università. Quindi esistono già in realtà dei punti di contatto. Quello che immaginavo io è di dire teniamo, cioè lavoriamo su un track comune, quindi solo una cosa che in fondo può essere relativamente semplice. Poi bisogna capire se vuole essere un track in cui uno dice facciamo convergere tutto lo sforzo, che ne so, sul tema del cambiamento climatico. Vediamo in che modo tutti, cioè faccio un esempio di un tema caldo, le competenze, le conoscenze mediche. Io poi sono molto più per il patrimonio culturale devo dire come tema. Però tendenzialmente uno dice usiamo anche questa sinergia per magari riflettere su dei problemi che hanno una scala e una rilevanza importante per noi tutti. Oppure può essere invece un grande palcoscenico dei best speaker di tutti i movimenti. Quindi questo può essere uno spazio appunto di discussione e può essere appunto uno spazio di sperimentazione. Poi il resto del programma, ovviamente si tratta di comunicare il programma a tutti in modo tale che sia comprensibile, però probabilmente quello che avverrebbe comunque è di avere dei programmi separati. Quindi il Fosterm continuerebbe ad avere il suo programma però con delle tangenze con gli altri. Wikimania è lo stesso, State of the Map, l'evento di Creative Commons Global. Quindi mantenendo ognuno un suo pezzo e allo stesso tempo creando delle sinergie e avendo una comunicazione più ampia. Il motivo per il quale parlavo di volontari è che credo che serva comunque questa parte umana perché il rischio è veramente che le stanze siano tutte piene, che la gente non sappia dove deve andare, che alla fine resti sempre nel tuo gruppetto. Quindi è chiaro che servono dei motori che aiutino comunque i contatti e le relazioni e facilitino e accolgano che alla fine è un po' la cosa essenziale degli eventi. Questa cura che abbiamo per le persone, che ci sono le mandorle caramellate, il sugo speciale. Queste sono anche le cose che rendono gli eventi qualcosa di unico e che lasciano anche i ricordi più belli. Grazie mille. Grazie. Ho un feedback io, così mi sento di poter dare questo feedback. Allora, Global Open Movement. Mi piace come nome, però mi piacerebbe OMG. Open Movement Global. Giusto perché OMG, tutti dico OMG, visto la cosa. Poi l'altra cosa è che noi stiamo andando nella direzione Think Small e invece questo evento è Think Big. Quindi, who knows what's happening tomorrow? Questo è l'altro feedback, ma comunque lo stimo è interessante. E sulla periodicità, io ho visto che su eventi grossi, per quello che conosciamo noi, che è quello degli Hacker Camp, diciamo che l'ideale può essere i quattro anni, cioè ragionare di quattro anni in quattro anni e può essere l'anno pari, quello delle Olimpiadi, quindi direi non 2029, ma calibrarsi su 2028, sembra che ci sia capaci di arrivare a 2028. Sì, devo dire che il 2029 nasce dal fatto che si concluderebbe un ciclo di selezione di venue per Wikimania, quindi ci sono più chance che ci sia un buco, perché non vogliono rifarlo in Europa e se riusciamo a coinvolgere Wikimedia Foundation ci sono molti soldi, quindi detto proprio, secondo me il 29 potrebbe essere, cioè riesco magari a ficcarlo nella pipeline degli eventi, quindi era una data per quello un po' strategica di soldi. Va bene, comunque grazie per questo input che comunque è un input molto interessante, adesso magari a qualcuno vengono delle ispirazioni e tu farai comunque una serie di talk di questo tipo nei vari punti. Questa è la prima volta che ne parlo, per cui spero che siete i beta-tester. Questa è la beta-test di un talk di questo tipo, perché comunque dovrai girare molto per parlare con queste community di questo progetto. Quindi un grande grazie a Yolanda per questa condivisione, per aver condiviso la sua esperienza qui all'Ensam Camp 2024 e un grande applauso per Yolanda Pensa. Grazie a tutti.